...intaccato di tre lunghezza infante bulbar che ha perso contatto con il gruppo, ma ora li attacca! Perché Satana è sempre in acquato e attenta quotidianamente! Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring and a bell. Go, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Go, Johnny, go! Oh, signore! Numero 5, furioso, livido, fuoribondo. Ehi, tu! Fermo, dove sei? 845, semi-automatica. Fuori uso. Necessito input. Hyde corre all'indietro, ma la palla è molto alta e molto... Veloce, finisce fuori campo, stupenda battuta. Veloce, finisce fuori campo, stupenda battuta. Un uomo ribasa, mi piace a visionare e vedi quando sei oltre in questo formaggio e.... Un uomo rib è vivo! Pio, mio! Vibio, Pio! Bisibili scattura a piedi, niente piedi! Bingo! Numero 5 è vivo! Salve, cervelloni! La vita non è una avaria! Programmatice! Distruggere, smontare, dare morte! Numero 5 non vuole, è male, non giusto! Bingo, non smontare Stefani! Carina! Bel software! Certo che non parli come una macchina! Bingo! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti